Per me la Sampdoria è stata sicuramente, è la società che mi ha dato fiducia, che ha creduto in me, che ha creduto nelle mie qualità e che fortunatamente sono uscito a tirarle fuori al 100%, quindi per me la Sampdoria è veramente tantissimo e dirò sempre grazie a questa società. Il primo trofeo, è ovvio che il primo trofeo, la prima Coppa Italia a Torino ai superventari i gol di Sassolo non ricordo, però è ovvio che è indelebile, ricordo che mi ripara impresso nella mente lo scudetto del 90-91.